Che cos'è l'inferno? L'inferno è lo stato di separazione eterna da Dio. Ma se Dio è amore, è davvero possibile che ci sia qualcosa come l'inferno? Come può un Dio buono permettere l'esistenza dell'inferno o addirittura lasciare qualcuno lì? Ora il problema non è con Dio, il problema è con l'uomo. L'uomo è chiamato ad una comunione di amore con Dio. Ma l'amore non può essere qualcosa di forzato. L'amore deve essere un dono gratuito. Ciò è evidente nel seguente esempio. Se io storco il braccio a qualcuno finché non mi ama, beh allora non vado da nessuna parte. Forse a causa del dolore dirà che mi ama, ma certamente non sentirà alcun amore. L'amore non può essere forzato. L'amore deve essere dato liberamente. Ora questa stessa libertà ci rende in grado di rivoltarsi contro Dio. Ogni peccato mortale è diretto contro Dio, la sua creazione quindi ci separa da Lui. Se non ci pentiamo questa separazione persisterà. In questo senso non è Dio che ci condanna all'inferno, ma noi stessi ci condanniamo. Ora come possiamo descrivere l'inferno? L'autore britannico C.S. Lewis illustrò la seguente visione dell'inferno nel suo libro Il grande divorzio. Egli descrive l'inferno come una città grigia che è in continua espansione. Quando le persone arrivano lì non ci vuole molto per finire a fare a botte con i vicini. Così si muovono fuori ai margini della città. Il loro motto è preferisco stare da solo piuttosto che condividere qualcosa con qualcuno. Gli abitanti dell'inferno sono ostinati e incapaci di vedere i propri errori o di ammetterli. Ma non sono felici. Nella storia della città grigia C.S. Lewis racconta che alcuni abitanti si riuniscono presso una stazione dei bus e il bus va in paradiso. Ma come si avvicinano al paradiso la visione diventa insopportabile per le anime dall'inferno. La chiarezza e la purezza, la luce, le figure oscure della città grigia vengono perforate. Esse si dissolvono e di nuovo tornano nell'oscurità. La persona all'inferno è intrappolata in un mondo fatto dal proprio ego. Egoisti non sono solo coloro che odiano tutti gli altri. Talvolta anche gli egoisti amano gli altri, ma lo fanno perché gli conviene, secondo un'ottica utilitaristica. Il vero amore non è possibile per un egoista. Intrappolati nell'io, l'uomo egoista è incapace di entrare in comunione con Dio. Questa è la triste realtà dell'inferno.